Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube. Oggi parleremo di atomi e andremo a esaminare i primi modelli atomici. Il video è completamente animato ed è stato realizzato personalmente. Spero che sia di vostro gradimento e alla prossima lezione. Una rivederci. Bene ragazzi, iniziamo questa video lezione parlando dei modelli atomici di Thompson e di Rutherford. Nelle prossime lezioni affronteremo il modello atomico di Bohr Summerfield per passare poi a quello quanto meccanico. Il primo modello atomico di grande rilevanza scientifica fu quello formulato dallo scienziato britannico J.J. Thompson, vincitore nel 1906 del premio Nobel per la fisica. Tale modello superava la visione daltoniana dell'atomo come ente indivisibile ed introduceva per la prima volta il concetto di elettrone. Questa particella fu scoperta proprio dallo stesso Thompson. Infatti nel 1897 realizzò un esperimento che consisteva nel collegare un tubo catodico, tubo di crux, con due placche alle proprie estremità. La placca negativa fu chiamata catodo mentre quella positiva anodo. Gli elettrodi del tubo di vetro in cui si era fatto preventivamente il vuoto erano collegati ad un generatore di corrente elettrica ad alta tensione. Durante l'esperimento si generava un fascio di raggi catodici che migravano dal catodo all'anodo. Nello stesso esperimento Thompson applicò due piastre, una a carica positiva e l'altra a carica negativa. Si notò che i raggi catodici venivano respinti dalla piastra negativa ed attratti da quella positiva. Tale fenomeno si verificava anche invertendo le due piastre. Thompson utilizzò anche degli elettromagneti ed osservò lo stesso fenomeno. Applicando il campo elettrico e quello magnetico, Thompson riuscì a determinare il rapporto massa e carica della particella. E sulla scorta dei dati ottenuti egli concluse che raggi catodici ribattezzati successivamente elettroni sono costituiti da particelle a carica negativa. In virtù di questo esperimento, J.J. Thompson propose il suo modello atomico. Egli immaginò l'atomo come se fosse costituito da una sfera a carica positiva in cui gli elettroni erano distribuiti in maniera uniforme in numero tale da rendere neutro l'atomo nel suo complesso. Nell'uso comune, questo modello fu chiamato a panettone, plan padding model, in cui si immaginano gli elettroni come le ovette ed i canditi. Parliamo adesso dell'atomo di Rutherford. Nel 1908 il fisico neozelandese Ernest Rutherford, premio Nobel per la chimica, nonché allievo di Thompson, incaricò due suoi collaboratori, il tedesco Hans Geiger e l'australiano Ernest Madsen, lo studio sperimentale della diffusione di particelle alfa attraverso sottili strati metallici. Le particelle alfa non sono altro che una radiazione ad alto potere ionizzante e a carica positiva costituita da due protoni e due neutroni e sono emesse da nucleidi radioattivi come uranio, plutonio, torio. L'apparato originario era costituito da una sorgente radioattiva di polonio che emetteva particelle alfa e da uno schermo di piombo con fenditura sottile che permetteva di ottenere un fascio ben collimato. Le particelle alfa bombardavano una sottilissima lamina di oro ed in seguito venivano intercettate da uno schermo di solfuro di zinco che emetteva lampi di luce quando veniva colpito. Geiger e Madsen osservarono che la maggior parte delle particelle attraversava quasi in linea retta la lamina d'oro ma alcune di esse, circa uno su ottomila, erano fortemente deflesse con angoli anche maggiori di 90 gradi. Lo stupore fu enorme, infatti assumendo come valido il modello atomico di Thompson, ciò sembrava fisicamente improbabile. Secondo tale modello, l'attraversamento delle particelle alfa avrebbe determinato una deviazione della loro traiettoria di frazioni di grado. Lo stesso Thompson interpretava queste forti deflessioni non come dovute ad un singolo urto di una particella contro l'atomo, ma come somma di numerose deflessioni che le particelle subivano nell'attraversare il materiale. In esperimenti successivi, eseguendo ulteriori bombardamenti con particelle ad altissima energia, il team di Rutherford notò delle deviazioni anche di 180 gradi. Rutherford avanzò l'ipotesi che alcune particelle subivano una fortissima deflessione quando attraversavano un intenso campo elettrico all'interno dell'atomo e se la deflessione era dovuta ad un solo urto, occorreva supporre che nell'atomo ci fosse un nocciolo centrale di dimensioni estremamente piccole, caricato positivamente e contenente la maggior parte della massa dell'atomo. Con tale modello, la deflessione si spiegava immediatamente. La particella alfa attraversava l'atmosfera elettronica, si avvicinava al nucleo e veniva fortemente deviata a causa di una grandissima forza di repulsione columbiana che si instaura tra due cariche positive. Quindi Rutherford immaginava l'atomo essenzialmente vuoto, in quanto il 99% delle particelle passava indisturbato. Il nucleo era estremamente piccolo, di diametro che Rutherford stimò dell'ordine di 9,5 per 10 alla meno 15 metri. L'atomo era elettricamente neutro, cioè il numero di elettroni doveva essere pari a quello delle cariche positive. Sulla base di queste deduzioni, Rutherford ipotizzò un nuovo modello atomico di tipo planetario, in cui la quasi totalità della massa era concentrato in quello che definì nucleo a carica positiva, intorno al quale ruotavano gli elettroni a carica negativa. Il modello atomico proposto, basato sulla meccanica newtoniana, era però in forte disaccordo con la teoria elettromagnetica classica, secondo la quale gli elettroni che si muovono di moto circolare intorno al nucleo dovrebbero irradiare onde elettromagnetiche, perdere energia e collassare in un tempo brevissimo sul nucleo. Per proporre questo modello atomico, Rutherford si avvalse delle leggi della meccanica classica, in quanto all'epoca non era disponibile la teoria quantistica. Dopo pochi anni fu il danese Niels Bohr a proporre un nuovo modello atomico che gettò le basi della meccanica quantistica.